E salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi voglio commentare, voglio dire giusto due parole, sulla partita del Milan contro il Torino, anche se sarebbe meglio anche non esprimersi su questa partita. È un po' in ritardo questo video sicuramente perché nel giorno in cui vedrete questo video ci sarà la sera il big match contro il Salzburgo, partita per noi molto importante. A di là di questo però oggi voglio commentare la partita contro il Torino, un po' per ordine. Non ho pubblicato in ultimi due mesi, non ho pubblicato praticamente nulla. Mi sono trasferito a Roma, ho avuto anche un po' da fare, qualche partita l'ho anche saltata del Milan per la verità. Ad esempio quella scorsa contro la Dinamo, quella col Monza, però la maggior parte, quasi tutte le ho viste comunque. E voglio comunque ritornare a commentare e a parlare delle partite del Milan. Parlando un po' di questo Torino-Milan, ragazzi questa è stata una partita, sai quando una partita è praticamente impalpabile? Cioè il Milan ha fatto proprio una partita impalpabile, è una partita molto disordinata, poco concreta, molta difficoltà nel costruire azioni pericolose. Anche giocatori che veramente sono quelli che danno qualcosa in più come Leao, soprattutto nella progressione, parla al piede, nello scatto, nel uno contro uno, sono venuti a mancare come Teo, Leao. E ragazzi, eravamo anche partiti bene in realtà, eravamo anche partiti bene perché c'è stata subito una grande occasione al terzo minuto per Leao che comunque svincola il pallone da buona posizione. Dopodiché due o tre minuti dopo, al sesto minuto, c'è un'altra grande chance per Leao che comunque svirgola col piede, ci abbatta il pallone. Questa è stata veramente un'occasione molto importante. In generale lui è molto più freddo, molto più cinico da quella posizione. E dopo questo inizio comunque abbastanza positivo del Milan, in cui ha cercato di creare, di costruire qualcosa di importante, viene fuori il Torino, viene fuori il Torino verso il ventesimo minuto, verso metà del primo tempo, con una doppia occasione nel giro di un minuto per Pellegri e poi per Schurz. E al trentacinquesimo poi c'è il colpo di testa di Gigi su punizione, il calcio di punizione. Prendiamo questo colpo di testa a palo-goal, mi sembra sì, è un palo-goal. E ragazzi, lì è stato comunque bravo anche il difensore del Torino a prenderla bene, perché comunque non era semplicissimo. E ha fatto un gran gol, va detto, ha fatto un gran gol, Tata Rosano incolpevole. Sulle marcature va detto che si poteva fare sicuramente di più, sicuramente. Al trentacinquesimo, appena due minuti dopo, subiamo un altro gol, gol di Milanciuk su rinvio del portiere Milinkovic-Savic. Bel rinvio lungo di Milinkovic-Savic che ha questa capacità, ha nelle corde questa... di riuscire a fare dei lanci così lunghi e di così ampia gettata. C'è poi un tocco di un altro giocatore del Toro che, diciamo, l'appoggia, la sistema per Milanciuk che incrocia abbastanza bene e batte Tata Rosano che, secondo me, comunque poteva fare qualcosa in più in questa circostanza. Probabilmente questo è un tiro che mi sento dire che Mainyan avrebbe quantomeno toccato, ma secondo me l'avrebbe parato, in realtà. Quindi Tata Rosano, comunque sappiamo essere chiaramente inferiore a Mainyan, non è riuscito a fare nulla di più. Non bene nemmeno Gabby, in realtà che si è fatto anticipare comunque sul rinvio, si è fatto anticipare da un giocatore del Toro, vabbè, poi la palla da Dambiran, ciò che comunque ha fatto il resto del lavoro, però Gabby non bene, non bene. Tata Rosano poteva fare sicuramente qualcosa di più, non si tratta chiaramente di un errore clamoroso, però poteva fare qualcosa di più. E quindi, ragazzi, per esempio, dal metà del primo tempo, il Toro è venuto fuori e ha giocato comunque una buona partita, un'ottima partita. Noi non abbiamo costruito più nulla di importante fino alla fine del primo tempo. Poi arrivano i campi di Pioli, esce Leao, esce un Leao molto impreciso, non brillante come al solito, però io forse l'avrei comunque lasciato in campo perché Leao è quel giocatore che, anche se magari ha sbagliato diverse cose al primo tempo, in fase conclusiva, però è un giocatore che da un momento all'altro può comunque farti la giocata e crearti superiorità numerica e sbloccarti la partita. E la partita si era messa in maniera complicata, ecco. Quindi forse l'avrei lasciato, poi entra anche De Ketelar e entra Rebic anche, ed entra anche Serginio Test. Entrano Rebic, De Ketelar e Serginio Test, appunto all'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Quindi si riprende con il secondo tempo, non succede granché... Oddio, c'è magari un buon pallone di Rebic all'interno che viene messo in mezzo, all'interno dell'area piccola però, Orighi arriva in ritardo e comunque il giocatore del Milan arriva in ritardo. Comunque è una buona iniziativa di Rebic, c'è poi un tiro fuori da lontano di Dest che almeno ci prova e cerca di fare qualcosa, però non succede moltissimo fino al gol di Messias al sessantasettesimo. Appunto c'è questo gol di Messias e... A mio parere in questa circostanza per alcuni il fallo è stato netto, non tanto per i finalisti, però magari per alcuni degli altri defositi il fallo è stato netto. Secondo me il fallo poteva essere dato, però non si è trattato secondo me di un evento proprio clamoroso, perché è vero che spesso in queste circostanze viene fischiato il fallo contro l'attaccante, cioè si tende più a fischiare contro l'attaccante e in favore del difensore in quelle circostanze, magari rispetto a un contrasto che avviene a centrocampo, perché lì è comunque una scelta che può risultare decisiva, quindi in genere si tende a privilegiare il difensore, nel senso che si cerca di andare più sul sicuro, diciamo sì, per non creare polemiche, però in questo caso diciamo che nonostante comunque ci sia una spinta di Messias, anche una mezza trattenuta poi comunque sul braccio, però è più che altro la spinta che dovrebbe essere punita, ecco. Un fallo che poteva essere dato, spesso si danno questi falli contro gli attaccanti, però comunque è anche il giocatore del toro che secondo me si è lasciato andare molto facilmente, quindi in situazione è un po' al limite, onestamente io capisco che Yuri ci sia arrabbiato molto, però secondo me il contatto è meno forte di quello che potrebbe sembrare, meno intenso di quello che potrebbe sembrare, perché onestamente lui allunga le mani, però secondo me non c'è tutta questa intensità, io credo che l'arbitro abbia valutato un'intensità non troppo elevata del contatto, ecco, e tra l'altro non è stato nemmeno richiamato il VAR, quindi diciamo, comunque tra i subentrati, Deist ha provato a fare qualcosa, De Keterar è veramente impalpabile, ha fatto magari delle buone giocate in altre partite, in questa partita non si è visto e non si è sentito, Rebic ha fatto qualcosina, ma in realtà poco, e Leao comunque, che non c'entra tra i sostituti, però volevo rimarcare di nuovo comunque la prova di Leao, che non c'entra tra quelli subentrati, perché appunto è stato tra quelli sostituiti a fine primo tempo, però volevo rimarcare la prova di Leao, che è stata comunque inconsistente, uno che magari ha giocato, forse decentemente, è stato Tonali, che comunque ha propiziato il gol di Messias, perché è da lui che parte il lancio per Messias, poi in realtà anche la difesa non ha giocato bene, sicuramente, quindi diciamo che è un po' tutta la squadra che non ha giocato bene, e anche perché nel secondo tempo, se è vero, abbia provato a fare qualcosa, però non mi ricordo proprio occasioni clamorose, cioè si è fatto poco anche nel secondo tempo, c'è stato un accenno di reazione all'inizio del secondo tempo, però con poche idee e poca facilità nel creare azioni pericolose, quindi niente, Torino che comunque ha meritato la vittoria, ha meritato la vittoria sicuramente, e vi volevo leggere anche un dato, perché in realtà è un dato secondo me molto importante, molto significativo, ecco, se noi andiamo a vedere i tiri, i tiri sono stati 12 tiri del Milan e 7 del Torino in tutta la partita, però tra questi 12 tiri totali del Milan soltanto uno in porta, e invece dei 7 del Torino ben 4 in porta, infatti ci agiremmo addirittura una precisione di 8.3% per il Milan e del Torino per il 57.1%, questo proprio a dimostrare il fatto che siamo stati molto molto imprecisi, sia nei tiri, comunque fuori aria già ci sta che uno è più impreciso, però anche in aria siamo stati molto molto imprecisi, nelle occasioni che abbiamo avuto siamo stati veramente troppi imprecisi, cioè precisione di tiri 8.3% è veramente poco, tra l'altro il portiere del Milan ha dovuto fare 3 parate, mentre quello del Torino è soltanto uno, nell'unico tiro in porta e poi del Milan totale, pali 0 e 0, questo è un po' il dato che volevo leggervi, proprio la dimostrazione di una precisione tiri bassissima, quindi Torino comunque ha meritato, ha fatto una buona partita e ha meritato, mi sento di dire che abbia meritato comunque la vittoria, perché non abbiamo giocato bene, e ragazzi ora testa comunque a Salisburgo, e poi commenterò anche quella del campionato e le prossime, vediamo un po' come ritaglierò un po' di tempo e farò qualche altro commento alle partite del Milan, quindi ragazzi like, iscrizione e commento se vi è piaciuto il video, condividete questo video con tutti i vostri amici milanisti e comunque amanti del calcio, e ragazzi spero che vi abbia fatto piacere questo ritorno sul canale da una nuova location qui a Roma, da poco trasferito qui a Roma, e noi ci becchiamo presto per un prossimo video, ciao a tutti ragazzi, bella! Ciao a tutti!